Schiuma rabbia il Montevarchi battuto 3-1 ben oltre i suoi demeriti sul sintetico dell'Andrea Pazzagli di Ponte Anniccheri dalla Grassina che ritrova la vetta del Girone B di Eccellenza. Sul match pesa l'espulsione di Francesco Sorbini, rosso diretto all'ottavo della ripresa, sancita da Gioele Iacobellis di Pisa per un fallo su Fantechi apparso a dir poco veniale. La parola alle immagini. L'Aquila paga un dazio troppo severo dunque, sbagliando anche il rigore del possibile 2-2 con Vangi al novantesimo. Sostenuto da circa 200 tifosi, il team di Rigucci si fa sorprendere al sesto da un preciso offendente di Bagnoli dalla distanza. Punti sul vivo, i rosso-blu alzano il ritmo e al ventesimo la penetrazione di Sorbini è fermata da Muscas. La respinta è preda di Ferri che trova sulla linea di porta il salvataggio di Badii, poi Daveri mette fuori. E' il preludio al pari, confezionato al minuto 22 sull'asse Stefanelli Ferri e firmato da Vangi al quinto centro nel torneo. Prima dell'intervallo applausi per la girata di Sorbini al ventisettesimo. Ripresa piena di episodi avversi per i valdarnesi. Al quinto la punizione di Bagnoli è deviata nella propria porta da Desiderio. Quindi il fattaccio su Sorbini che fa infuriare non poco i tifosi aquilotti. Cacciato anche mister Rigucci per proteste al ventunesimo per un fallo analogo non sanzionato. Un minuto e il colpo di testa di Menichetti si perde fuori di un niente. Ci prova Vangi al 35esimo esaltando sotto misura i riflessi di Muscas. Il pareggio non arriva neppure dal dischetto. Per una spinta di Castellani ai danni di Ferri è concesso il penalty. Gabriele Vangi si fa il retire dal portiere. Sul rovesciamento di fronte Renna realizza il 3-1. Ingeneroso per un Montevarchi che esce dal campo tra mille recriminazioni ma non ridimensionato.